Gli avvistamenti di lupi vicini alle zone abitate stanno diventando sempre più frequenti e riguardano ormai tutte le zone della nostra provincia. Gli agricoltori e gli allevatori si lamentano, i semplici cittadini iniziano invece a dare qualche segno di preoccupazione. Negli ultimi giorni sono state numerose le segnalazioni. Nella zona di Travo un uomo che portava a spasso il cane appoggio superiore si è imbattuto nello scheletro di un animale, probabilmente un daino letteralmente sbranato. Nelle campagne di Borgonovo invece, molto vicino al paese, un altro cittadino ha trovato la carcassa di un capriolo che era stato azzannato e parzialmente mangiato. Infine a Ponte Nure un automobilista di passaggio ha immortalato in un campo un lupo che si allontanava da un canale irriguo con in bocca una preda, vale a dire una nutria. Col diretti da tempo denuncia questo problema. Noi eravamo partiti anche con la denuncia in merito agli ungulati, quando i danni erano quasi squisitamente, esclusivamente riservati alla compagine agricola, quindi alle colture e già all'epoca avevamo lanciato l'allarme proprio per evitare, scongiurare incidenti che poi puntualmente si sono verificati e hanno provocato anche dei morti. Allo stesso modo oggi i lupi provocano danni agli avventi, ma il timore che abbiamo è che non siamo tanto lontani dal poterli avvistare qui vicino alla città e quindi anche con rischi per la sicurezza dei cittadini.